Adescamento di minori e detenzione di materiale pedopornografico, giostraio a processo a Rimini, i fatti risalgono al 2018-19. Alluvione, ancora centinaia le strade chiuse e le frane attive in Romagna, dove domani arriverà il presidente Mattarella per un sopralluogo. Il tempietto di Sant'Antonio a Rimini tornerà all'antico splendore grazie all'Art Bonus, a finanziare l'intervento un noto imprenditore. Calcio giovanile in festa, si è conclusa ieri l'undicesima edizione del torneo internazionale Città di Rimini. Buonasera, ben trovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro Tg. Apriamo con la cronaca. Un giostraio 56enne della provincia di Bergamo è a processo a Rimini con le accuse di detenzione di materiale pedopornografico e adescamento di minori. I fatti risalgono agli anni 2018-2019 in concomitanza con un'importante fiera di paese che si svolgeva nella Riminese. È lì che l'uomo, nella zona del Luna Park in cui lavorava, avrebbe ottenuto i contatti di alcuni ragazzini di 13-14 anni con la promessa di regalare loro gettoni per l'autoscontro o altre giostre. Poi, attraverso le chat messenger o whatsapp, avrebbe chiesto di incontrarli per avere rapporti sessuali oppure li avrebbe sollecitati ad inviare foto o video che li ritraevano nudi. Sono stati i genitori di due ragazzini a scoprire nello smartphone dei figli le chat col 56enne, così a denunciarlo ai carabinieri. Nel telefonino del giostraio è stato trovato poi materiale pedopornografico e a distanza di anni il 56enne è finito a processo. Il suo legale Cinzia Bonfantini ha richiesto la perizia psichiatrica per accertare la capacità di intendere volere dell'uomo a cui in passato sarebbe stato riscontrato un ritardo mentale di grado medio. La prossima udienza è fissata per il 26 giugno. Restiamo in tribunale. Una relazione iniziata nel 2014 durata circa quattro anni tra un militare dell'esercito in servizio a Rimini al settimo vega e un'imprenditrice riminese finita nelle aule di tribunale dopo che la donna sporto denuncia nei confronti dell'ex compagno accusato di averla raggirata per portare le vie a 79 mila euro, soldi che il militare le avrebbe richiesto per soddisfare le false pretese che la camorra aveva avanzato nei confronti di suo padre. In caso contrario sarebbero stati guai per tutti, in primis per il padre ma anche per lui e persino per l'imprenditrice e i suoi familiari. Per questo, secondo l'accusa, la 61enne riminese avrebbe versato sotto menzogna al militare 45enne originario di Caserta quasi 80 mila euro nel giro di un anno e mezzo per poi scoprire in realtà che si trattava di una messa in scena. Così ha stabilito questa mattina anche il tribunale di Rimini che ha condannato l'uomo a due anni di reclusione e pena sospesa, condizionata però al versamento entro due anni dei 79 mila euro tenuti dalla truffa, riconosciuti poi alle parti civili ulteriori 30 mila euro di risarcimento per danno morale. E torniamo a parlare anche dell'alluvione perché resta ancora complicata la situazione in Romagna, in particolare in alcune zone del Ravennate. Domani intanto è attesa la visita del Presidente della Repubblica, Mattarella. Vediamo. 772 strade tra comunali e provinciali ancora chiuse totalmente o in parte alla circolazione, 43 delle quali nel riminese e 758 frane attive sui territori, 13 in provincia di Rimini. Mentre il livello di allerta meteo resta contenuto, anche per domani è stata diffusa un'allerta gialla, continuano le criticità idrogeologiche nelle zone più colpite dall'alluvione. Scendono a 1128, 200 in meno di ieri, le persone accolte nelle strutture messe a disposizione dai comuni oppure in alberghi, tra questi anche un centinaio di minori. Ce ne sono altre svariate migliaia però che ancora non possono fare ritorno nelle proprie abitazioni. La situazione più complicata nella Ravennate, in particolare a Conselice, dove solo nelle prossime ore, a quasi due settimane dall'alluvione, l'abitato sarà liberato dall'acqua ormai stagnante e potrà così iniziare la sanificazione. Nei giorni scorsi nelle province della Romagna circa 3.000 persone si sono vaccinate contro il tetano per evitare rischi nell'operare in zone alluvionate. Noi stiamo gestendo un rischio sanitario che è correlato agli eventi che abbiamo subito, ma devo dire che non c'è emergenza sanitaria. Stiamo parlando comunque di una popolazione che ha ricevuto solo nelle Ravennate centinaia e centinaia di vaccinazioni, ne abbiamo fatte 3.000 in questi giorni sia di antitetanica sia contro l'epatite A. Questo per gestire in maniera responsabile, accorta e sulla base della prevenzione un rischio sanitario che non deve assolutamente parlare ora di trasformarsi in emergenza. Intanto, come annunciato da RFI, è tornata percorribile questa mattina la linea ferroviaria tra Bologna e Rimini anche nel tratto tra Faenza e Forlì. Proseguono gli interventi sulla circolazione e non si arresta neppure la solidarietà. La raccolta fondi lanciata dalla regione ha raggiunto i 28,4 milioni di euro e domani arriverà in Romagna il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per vedere da vicino proprio i luoghi più colpiti dall'alluvione. Il Tempietto di Sant'Antonio in Piazza Tremartiri a Rimini torna all'antico splendore grazie al contributo di un imprenditore riminese tramite l'Art Bonus, formula che l'amministrazione comunale auspica possa diffondersi sempre più. Questa mattina c'è stata la presentazione dell'intervento. È stato presentato alla soprintendenza il progetto di restauro della celletta di Piazza Tremartiri, conosciuta come il Tempietto di Sant'Antonio. L'opera, prevista nel 2024, è stata finanziata per 200 mila euro, grazie in particolare all'impegno da 150 mila euro con l'Art Bonus dell'imprenditore Bonfiglio Mariotti, presidente di Blue Next. Il Tempietto è stato costruito nel 1518 in pietra arenaria di San Marino e poi ricostruito più volte dopo i terremoti. Un annuncio che arriva proprio nell'anno dell'ottocentenario del passaggio di Sant'Antonio a Rimini. Un gesto di amore verso la propria città, sì, che sarebbe bello potesse diventare virale. Ci sono tanti riminesi che si prendono cura di pezzi della propria città, non necessariamente solo monumenti e questo modo di interpretare la propria vita, il proprio essere riminese è importante. Se ognuno facesse la sua parte sicuramente Rimini potrebbe essere ancora più bella. Ovviamente il comune deve fare la sua, ma in questo rapporto pubblico-privato credo che possono nascere cose molto molto belle. È veramente un luogo importante per Rimini. Io vedo appunto da penultimo arrivato vedo quante persone si incontrano qui, si danno appuntamento qui e pregano qui e quindi questo è una cosa veramente molto bella. Poi ci affidiamo anche a Sant'Antonio che insomma da giovane, 28enne, è venuto a Rimini ad annunciare il Vangelo e speriamo che con il suo aiuto di continuare ad annunciarlo. Io sono cristiano, sono cattolico, sono praticante, ma al di là di quello che è irrilevante amo la storia e l'arte e credo che ognuno di noi imprenditori abbiamo ricevuto tanto, al di là dalla nostra città o meno, comunque abbiamo ricevuto tanto dalla comunità e quindi dobbiamo restituire un po' in parte e dobbiamo anche restituire. L'Art Bonus consente di donare 100, in realtà spendendono più o meno 50, ecco. Questo sarebbe una bellissima cosa perché lo Stato e in questo caso l'amministrazione locale non ce la fa fare tutto, la Chiesa anche non ce la può fare fare tutto, quindi sta a noi aiutare. Ha riaperto in questi giorni il Museo della Ceramica di Faenza, danneggiato non in modo grave fortunatamente dalle alluvioni. Proprio alcune settimane fa eravamo stati nella città romagnola per raccontare in che modo la tradizione della ceramica viene portata avanti anche grazie a progetti e fondi europei. La Strada Europea della Ceramica è un progetto che mira a creare un'offerta turistica sostenibile e competitiva attorno alla ceramica e propone di scoprire un patrimonio comune fortemente radicato nei territori. La Strada Europea della Ceramica è un network di città, istituzioni culturali, realtà produttive che hanno deciso di fare un pezzo di strada insieme. Hanno deciso di cogliere un'opportunità, quella del Consiglio d'Europa, di istituire un itinerario culturale che tenesse insieme realtà diverse all'interno del perimetro europeo per fare cosa? Soprattutto per radicare i valori, i principi, le idee della Unione Europea. L'itinerario culturale Strada Europea della Ceramica riunisce, un po' come è facile immaginare, molte realtà europee che condividono questo tema identitario fortissimo della ceramica. anche nella sua espressione a livello più alto, quindi abbiamo dentro la nostra ruota ad esempio Faenza in Italia, Limoggi in Francia, Aveiro in Portogallo, ma solo per dirne alcuni che sono un po' alla massimo livello, a livello nazionale, ceramico e che partecipano come municipalità, quindi come comuni, ma vi sono anche musei, ad esempio il portellanico di Selva in Germania che rappresenta tutta la storia della tradizione, della storia della porcellana di Meissen, ma abbiamo anche musei in Norvegia piuttosto che in Ucraina, oppure fanno parte del nostro itinerario culturale come degli altri, anche altre tipologie di realtà come agenzie di livello statale, agenzie per il turismo, ministeri, entità di questo tipo. La progettazione europea consente di ottenere finanziamenti per la realizzazione di azioni ed attività che mirano a promuovere la conoscenza, la cultura e la condivisione in sharing fra diverse realtà di diversi paesi d'Europa, cosa che noi siamo già come network europeo e quindi naturalmente ci identifichiamo spesso perfettamente con quelli che sono le finalità dei singoli programmi. Si è svolta ieri all'Eteria di Grabo, a Quariano, l'assemblea costitutiva dell'Associazione Distretto Bionaturalistico del Rio Melo. Sono 48 soci ma già ci sono altre richieste di adesione. A presentarci le finalità del distretto sono la Presidente, nominata per acclamazione, e il promotore dell'Associazione. La voglia finalmente di far vivere questo territorio così ricco ma così sconosciuto ai più mi stimola ad agire e a metterci tutta l'energia possibile. Credo, come dicevo prima, credo che i bambini siano la base di questo progetto, almeno per quanto mi riguarda, perché solo educando i nostri figli alla scoperta del territorio, a riscoprire la voglia di camminare scalzi, di giocare nell'erba, di arrampicarsi sugli alberi, di scoprire questo rio Melo così sconosciuto ai più e anche così lasciato indietro che forse possiamo veramente creare un mondo diverso. Ma è una missione più che un progetto perché puntiamo a rigenerare, a riportare fertilità ai terreni, proviamo a prenderci cura, ma anche dei ri, dei corsi d'acqua, no? E con quello che è successo proprio in Romagna, penso che sia di attualità, cioè neanche l'avessimo fatto apposta. Il distretto significa un luogo, diciamo, in questo caso una valle, una grande valle del rio Melo che parte da Montescudo e arriva a Riccione e questa valle dovrà assumere caratteristiche nel futuro, caratteristiche di coltivazioni evidentemente biologiche ma soprattutto tendenzialmente biodinamiche e dovrà ripartire da un grande rispetto della natura e a quello che sarà necessario e che tutti facciamo perché se non rispettiamo la natura e non l'amiamo e non cerchiamo di conservarla o di riportarla a dove era lo splendore, a dove era prima della chimica, prima di tutti i trattamenti che noi vediamo e credo che l'umanità, gli uomini, non avranno futuro perché mangiando male sicuramente c'è poco da aspettarci e sicuramente saremmo anche molto più soggetti a tantissime patologie che sono quelle che vediamo tutti i giorni. I Soundcheck hanno vinto il contest musicale per giovani band riminesi organizzato in collaborazione con la Rose & Crown nell'ambito di Salesiani in Festa, la tre giorni di festa della parrocchia di Santa Maria usiliatrice conclusasi proprio ieri, li abbiamo intervistati. E per il Soundcheck! Noi siamo i Soundcheck, siamo una rock band di Rimini e suoniamo da ormai cinque anni? Cinque anni vuole. Quasi cinque, no quasi cinque, dai. Cinque anni. Sì, cinque anni. Su Instagram ci trovate official-soundcheck e su Spotify soundcheck, basta che in realtà sarebbe meglio se cercassi direttamente le nostre canzoni proprio per il fatto che noi siamo ancora abbastanza famosi. Siamo presto. Allora, che cosa suonate? Noi suoniamo rock, noi suoniamo rock perché per noi è il genere che dà più energia ma la musica è tutta bella, perciò non facciamo discriminazioni ragazzi, la musica unisce, la musica amicizia come abbiamo detto stasera alla serata ai Salesiani, è stupendo perché noi abbiamo trovato le persone fantastiche che ci univano e univano attraverso la musica quello che è lo stare insieme e volersi bene. Non abbiamo trovato avversari in questo contest, perciò è questa la musica. Noi suoniamo... Avversari nel senso che eravamo tutti amici. Esattamente, perché ci siamo divertiti e l'importante è questo, noi abbiamo vinto, vabbè. Era un gran gruppo di amici, era un ritrovo tra amici che vogliono suonare piuttosto che un contest, noi l'abbiamo visto così almeno. Sì, assolutamente. Quindi noi suoniamo la musica per me. Mi raccontate l'emozione per questo successo? L'emozione è tantissima, poi c'è stima reciproca tra di noi, tra i vari gruppi, quindi è sicuramente un bel modo per stare tutti insieme. L'emozione c'è stata perché non ci aspettavamo forse neanche di vincere. C'era un sacco di competizione, però anche sana competizione. Esatto. E siamo adesso allo sport perché non si è conclusa solo la festa dei Salesiani, ma anche l'undicesima edizione del torneo internazionale Città di Rimini, classico appuntamento di calcio giovanile organizzato dall'Accademia Rimini Calcio. Vediamo com'è andata. Accademia Internazionale Calcio nella categoria esordienti e Roma nella categoria pulcini si sono aggiudicate l'undicesimo torneo internazionale Città di Rimini, organizzato dall'Accademia Rimini Calcio con il patrocinio del Comune di Rimini e che ha visto le finali e le premiazioni svolgersi per l'indisponibilità dello stadio Romeo Neri al Valentino Mazzola di Sant'Arcangelo. Con piacere devo dire che il bilancio è positivo e ormai il torneo è abbastanza rodato e ci permette di avere soddisfazione anche quest'anno con un'edizione a 44 squadre non al pieno delle nostre possibilità, però dopo il periodo Covid ci riteniamo soddisfatti di aver messo in piedi un bel torneo. Anche quest'anno abbiamo avuto delle recensioni molto buone e abbiamo riscosso successo, quindi siamo soddisfatti, siamo stanchi ma siamo contenti. Abbiamo visto un bel calcio giovanile di livello e anche tanto bel pubblico sugli spalti. Sì esatto, un bel calcio sul campo, sempre squadre di livello tra professionisti e dilettanti che comunque portano in campo qualità. È una buona partecipazione anche sugli spalti, questo ci ha fatto molto piacere perché ho visto i genitori, i familiari di questi ragazzi divertirsi. Chiaramente Rimini ci dà questo vantaggio, però è stato un bel clima. Ancora sport, il Panathon Club Rimini ha premiato infatti al Liceo Scientifico Serpieri di Viserba lo studente atleta 2023, vediamo. Una borsa di studio sport di 500 euro per lo studente della sezione di indirizzo sportivo del Liceo Scientifico Serpieri di Rimini che si è messo in maggiore evidenza per i risultati scolastici e sportivi. È il premio studente atleta 2023, promosso dal Panathlon Club Rimini. Noi che come movimento promuoviamo la sana diffusione dei principi legati alla crescita morale e culturale che lo sport porta avanti, che vanno dal fair play, quindi da questa correttezza, questa lealtà nelle gare, nelle competizioni, che però è legata culturalmente alla formazione, alla crescita di questi giovani. Crescita che li fa diventare non solo dei bravi atleti, che li fa interagire non solo con i compagni di squadra ma anche con gli avversari, ma soprattutto li crea dei buoni cittadini, crea delle persone responsabili in una società che ha bisogno appunto di recuperare questi valori di lealtà e di correttezza in senso lato. Studente atleta 2023 è Alice Spiotta, che gioca nel Forlì Softball. È un'emozione grandissima, non me l'aspettavo perché si mi impegna tantissimo, però non mi aspettavo questo riconoscimento. È un vero onore, ringrazio tanto l'associazione per avermelo riconosciuto. Io gioco a Softball, nel Softball Forlì, che è una squadra che milita nella Serie A1 di Softball. Stiamo giocando il campionato e aspettiamo di vedere come va e se riusciremo ad arrivare alle fasi finali e a vincere eventualmente uno scudetto. Sono nel giro della Nazionale Under 18 di Softball e adesso abbiamo l'ultimo raduno, il 12-13 giugno, e poi abbiamo le convocazioni per un eventuale europeo e speriamo bene. Come studentessa mi piace molto studiare, imparare cose nuove, per questo che principalmente vado bene a scuola. Mi interessa molto studiare per il mio futuro, ma soprattutto vengo a scuola per le mie amiche, perché ci divertiamo molto, non solo per la conoscenza, insomma. E noi siamo arrivati in conclusione. Come sempre vi ricordo per tutti gli aggiornamenti in tempo reale il nostro sito, newsremini.it. Grazie di essere stati con noi, buon proseguimento di serata a tutti. Grazie di essere stati con noi, buon proseguimento di serata a tutti.